Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il maltempo che si è abbattuto nella nostra regione nelle ultime ore ha creato diversi problemi sul territorio, in particolare nella notte tra frane, allagamenti e auto rimaste bloccate dall'acqua. L'alerta gialla della protezione civile regionale prosegue fino a mezzanotte. Sono stati un centinaio volontari della protezione civile con il coordinamento dei vigelfuoco che hanno operato tra la tarda serata di ieri e le prime ore del mattino. Si registrano interventi a Manzano per l'allagamento del sottopasso di via della stazione e per dare supporto a una famiglia alle prese con l'acqua che ha allagato la casa entrando dalla porta principale. A lavoro anche a Pavia di Udine per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi con 30 cm d'acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. Nella zona è stata interdetta con transenne segnali di pericolo, la viabilità interessata dall'allagamento è stata transennata, sono stati posizionati segnali di pericolo. Ad Atimis una frana di detriti si è riversata sulla careggiata in Borgo Pecole, il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata. Tra Basiliano e Campoformi, l'intervento per l'allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini, le squadre comunali della protezione civile continuano a tenere monitorata la situazione nel territorio. Il tema energetico resta al centro dell'attività politica, appare lontano un tetto al prezzo del gas a livello europeo, la Germania ha fatto un passo che rende il fronte meno compatto. In questo quadro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sta lavorando alla creazione del nuovo governo. Sentiamo su questi passaggi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, e nei momenti difficili dice che bisogna dimostrare di credere nell'Europa. Si lavora il governo, presidente. Quali le aspettative da Giorgia Meloni per questo nuovo esecutivo, che sarà un esecutivo che avrà un incarico molto difficile e complesso? No, ma intanto aspettiamo che si insedino le camere, che venga dato l'incarico e dopo di che ovviamente si formerà il governo. È ovvio che in questo momento l'emergenza, ma sembra banale dirlo, nella drammaticità che stiamo vivendo, è il costo delle energie, l'aumento dell'inflazione, sulla quale penso a livello europeo debbano cambiare atteggiamento rispetto a una situazione che si sta venendo a creare, ovvero di alcuni paesi che operano in maniera egoistica, mettendo in crisi tutto il sistema europeo. Usciamo di metafora. La Germania ha detto che non è a favore, sta lavorando per una loro risoluzione del problema. Questa cosa quanto destabilizza la compattezza della UE? Bisogna capire se i paesi che fanno parte dell'Europa sono convinti di farne parte o invece vogliono semplicemente utilizzare l'Europa. Questa è una discussione che dobbiamo porci perché poi è inutile lamentarci all'ora della disillusione verso il sistema europeo. O c'è una compattezza dei paesi e si affrontano insieme i problemi aiutandosi reciprocamente, oppure l'alternativa è che l'Europa scoppi. Penso che questo non se l'auguri nessuno, mi auguro che non sia la volontà di nessuno, ma ci deve essere la volontà perché ciò possa accadere soprattutto nei momenti di difficoltà. È troppo semplice definirsi europei, amanti dell'Europa, sostenitori dell'Europa in momenti semplici e facili. Bisogna dimostrarlo quando la situazione è difficile, quindi far vedere la forza dell'Europa, che vuol dire anche la solidarietà europea e affrontare temi di emergenza come questi in modo comune. Anche il settore degli autotasporti soffre a causa dell'incaro del costo dell'energia, ma riesce a far fronte al difficile momento. Le imprese del settore fanno fatica a trovare nuovo personale, il mestiere del camionista è poco attrattivo, nonostante i mezzi siano dotati di strumentazioni all'avanguardia per rendere la guida più sicura. Problemi legati al mancato completamento di infrastrutture viari attese da anni, allungamento dei tempi di carico e scarico e difficoltà a reperire personale preparato, e quanto evidenza il settore del trasporto e della logistica, che attende la creazione della zona logistica semplificata. Nel nostro settore la figura dell'autista non è una figura socialmente molto ben vista, anche se in realtà noi siamo quelli che consegniamo la benzina ai distributori, la farina ai panifici per fare il pane, quindi siamo, non dico strategici, ma comunque siamo importanti all'interno di una catena logistica, però il mondo non vede molto bene la figura dell'autista. Il settore tra l'altro deve far fronte all'aumento dei costi della componentistica per la manutenzione dei veicoli. Dalla di blu ai pezzi di ricambio ai pneumatici, gli stessi autocari sono cresciuti tantissimo perché sono cambiati i contenuti tecnologici, ormai il camion non è più il camion di una volta, è veramente una piccola astronave, tant'è che quello che si chiama l'autista di camion andrebbe a chiamarsi il pilota di camion, un po' come il pilota degli aerei, perché di fatto comandano un giocattolo, uno strumento molto tecnologico in cui è richiesta una grande competenza anche tecnico-informatica per avere tutte le informazioni che questo può dare per sfruttarlo al meglio. Commessa da 14 milioni di euro per la Cimolai di Pordenone, che realizzerà l'impalcato metallico del nuovo ponte Ande Bretagna-Nant, l'opera da oltre 2.000 tonnellate di acciaio, sarà costruita nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Cimolai si è giudicata ai lavori per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'impalcato metallico del nuovo ponte Ande Bretagna sul fiume Loira a Nant. L'opera rientra nel progetto della città metropolitana di Nant, che prevede la costruzione di un ponte-piazza dotato di un giardino e un belvedere, che sarà funzionale sia per la mobilità tradizionale sia per quella alternativa all'uso delle macchine. Il progetto è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da player internazionali, tra cui la Cimolai, per la realizzazione della commessa del valore complessivo di 14 milioni di euro. L'azienda pordenonese prevede la partecipazione di 30 persone, tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. Il nuovo impalcato metallico, che si affiancherà a quello esistente, avrà una lunghezza di circa 140 metri e una larghezza fino a 40 metri, per un peso complessivo di circa 2.150 tonnellate di acciaio verniciato. Cimolai costruirà l'intera struttura nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro, dotato di banchina, per poi trasportarlo a Nante e posarlo direttamente in opera. Le operazioni di carico per il trasporto marittimo inizieranno ad agosto 2025. La posa in opera verrà eseguita dopo circa un mese di navigazione lungo l'Adriatico, il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico. Inaugurata a gusti di frontiera a Gorizia, un'edizione forte degli oltre 300 stand e le delizie dei 40 paesi del mondo, allargata l'offerta dei paesi africani con il primo ingresso della Svizzera. Il presidente Fedriga ammirevole che la manifestazione sia rimasta viva anche durante il Covid. Rivivere gusti di frontiera in presenza in tutta la sua pienezza, con il grande merito degli organizzatori di aver tenuta viva la manifestazione anche durante la pandemia. È uno dei concetti espressi dal governatore Massimiliano Fedriga all'inaugurazione della kermesse goriziana, forte dei suoi oltre 327 stand e 40 paesi rappresentanti. Un taglio del nastro è avvenuto nella galleria dell'hotel Entourage a causa del maltempo e in un'atmosfera ugualmente frizzante. Con un sindaco di Gorizia pronto a scherzare sulla sua maglietta indossata, a promuovere la manifestazione e evidenziare le conoscenze enogastronomiche del sindaco di Nova Gorizia. Suggerisco il titolo ai giornalisti domani. Esistono le taglie anche per il sindaco Ziberna. Il titolo è fatto, tutto il resto del posto. Siamo come il marito e moglie. Io sono un mangione però inelazzo. Nella zona friuliana di Gorizia vado pazzo per il frico. Ma ancora il presidente Fedriga che non ha nascosto le sue passioni culinarie. Però io devo ripetere quanto ha detto, e sono un triestino, però quello che ha detto il sindaco di Nova Gorizia, io il frico per me è uno dei miei prati preferiti. Come del resto il prefetto di Gorizia Ricciardi, grande appassionato di formaggio. È un goloso di formaggio da io. Il prefetto di Gorizia è un goloso di formaggio. Io volevo essere più formale ma Ziberna si porta sulla... Ziberna li ha mangiati tutti e quindi non ne ho ancora trovato uno in giro. E sono stato costretto per la serie che cosa hai già assaggiato, a partire che non mi l'avete fatto dei vini del Colle. E ora avanti, sperando nel bel tempo, finalmente annunciato in arrivo ad ore dopo le ripetute allerte meteo. Il friuli Venezia Giulia è tornato in cima alle classifiche di gradimento dei turisti di tutto il mondo. E Gorizia è seconda soltanto a Trieste, con un segno positivo pari all'11%, dato certificato dall'assessore regionale al turismo, Sergio Mediubini. Il turismo tira in friuli Venezia Giulia. Sorridono i numeri per quello che concerne le presenze turistiche al mare e in montagna. Brillano le statistiche a Trieste e non è da meno Gorizia, con incrementi che arrivano a superare il 10%. Il capologo isontino è sempre più attraente e attira turisti locali ma soprattutto da oltre confine. Pensate che Gorizia è la seconda città, dopo Trieste, presidente, che è cresciuta di più rispetto al 2019, che era l'anno dei record, più 11%, quindi numeri in molto. Io ero prima delle relazioni. Ma non ti serviva. Non ti serviva. E quindi capite, è una regione che davvero ha dato gran dimostrazione di capacità. È cambiata anche la tipologia di turisti. Io vedo il grado di riempimento poi degli alberghi, quindi non solo un muro di effuggi, ma una presenza anche costante. Camminare nel bosco fa bene a effetti misurabili sulla stato d'ansia, sulla depressione, sulla difficoltà di concentrazione. Le ricadute terapeutiche del contatto con la natura sono state dimostrate da una ricerca scientifica presentata a Pordenone. Vediamo. Una salutare camminata nel bosco non è solo un modo di dire. Adesso è anche una ricerca scientifica sul campo, effettuata in piena pandemia, l'estate autunno 2020, da due attivi ricercatori dell'Istituto per la Bioeconomia CNR, Federica Zabini e Francesco Meneguzzo, quest'ultimo referente tecnico nazionale del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. Entrambi sono stati ospiti a Pordenone dell'edizione 2022 di Affascinati dal cervello 2022, il cartellone di appuntamenti dedicati alle neuroscienze, giunto alla quindicesima edizione, promosso dall'IRSE, l'Istituto regionale di studi europei, con il coordinamento del neuroscienziato Marcello Turconi. Zabini e Meneguzzo hanno indagato e raccontato a casa Zanussi le ricadute terapeutiche del contatto con la natura, passeggiando nei boschi. I risultati sono parte integrante del volume Terapia Forestale, che racconta l'esperienza di 200 persone tra i 18 e i 79 anni e l'effetto benefico delle loro passeggiate nel verde, in rapporto allo stato d'ansia, alla depressione e alla difficoltà di concentrazione. I benefici dell'immersione in foresta, hanno spiegato i neuroscienziati, sono misurabili con un'azione ad ampio spettro, che investe tra le altre le sfere psicologica, neurologica, cardiocircolatoria e immunitaria. Nella seconda parte dell'incontro, Marcello Turconi ha dialogato con lo psicologo e neuroscienziato Andrea Bariselli, CEO di Strobilo, la compagnia Health and Climate Tech, specializzata in neuroscienze e intelligenza artificiale applicate al rapporto uomo-natura. L'azienda utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere il complesso legame tra esseri umani e ambiente naturale e trovare strumenti utili a ridisegnare gli spazi che abitiamo, cercando di salvare il pianeta. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Avola Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.